Un momento di preghiera con la celebrazione della Messa e una cena condivisa per volontari e volontarie che da ottobre a giugno hanno accolto e accompagnato prima del riposo le persone senza fissa dimora che hanno chiesto e trovato ospitalità notturna a Casa Bruzzone, il dormitorio diocesano di San Pier di Canne. Il desiderio è quello anche di prenderci cura di chi si prende cura, cioè cura delle persone che hanno vissuto un servizio in una serata molto semplice di fraternità, di condivisione, della preghiera e della mensa, soprattutto per dirci grazie. Grazie che va a tutti coloro che si sono spesi, ma va anche ai nostri amici accolti, i volti e i nomi dei poveri che abbiamo incontrati, perché anche loro ci hanno regalato la possibilità di ospitarci gli uni gli altri. Così ci pareva bello porre un segno proprio di condivisione, ma soprattutto di gratitudine verso questa esperienza di ospitalità che ci permette di fare ogni volta a Casa Bruzzone. Con loro gli operatori che offrono la presenza stabile e professionale nella struttura. Allora, la Casa Bruzzone è un luogo di accoglienza, di accoglienza per le persone che non hanno un luogo dove andare, non hanno un tetto. Vive molto anche grazie all'aiuto dei volontari che possono andare e prestare servizio e soprattutto anche creare una situazione di calore umano nei confronti di queste persone che innanzitutto hanno dei bisogni naturalmente pratici, ma anche dei bisogni morali a cui si può sopperire in questo modo. Quindi il nostro appello è quello di accorrere numerosi per ingrossare le fila dei volontari. Mi aggancio al discorso di David per dire che appunto i volontari sono necessari per svolgere il nostro lavoro perché ci danno una grande mano e soprattutto sono bravissime a giocare a carte. Casa Bruzzone è stata aperta nel 2017. Funziona grazie alla collaborazione stretta fra Caritas, che accoglie le richieste degli ospiti e li accompagna, e il villaggio del ragazzo che offre la struttura e il supporto professionale. Ci siamo regalati come volontari di Casa Bruzzone una serata per ringraziarci reciprocamente del servizio che solo insieme possiamo fare per Casa Bruzzone perché siamo tanti i volontari, è una cosa molto bella. Ho contato almeno 142 volontari che si alternano nelle serate invernali e autunnali per accompagnare, tenere proprio compagnia agli ospiti che meno fortunati, hanno meno possibilità di noi e hanno necessità di un posto dove dormire la notte. 142 persone che, come è normale che sia, non tutte si conoscono, non sempre facciamo delle cose insieme, sappiamo uno dell'altro dell'esistenza ma non ci conosciamo. Allora questa sera è un po' un pretesto per passare una serata insieme, conoscerci, chiacchierare, semplicemente dirci grazie e dirci insieme il bene che questa esperienza ci fa. Casa Bruzzone è stata l'evoluzione di Casa Betania, una struttura più piccola che si trovava a cavi di lavagna aperta dal 2000 al 2017. Adesso questa storia è cresciuta, si è spostata, è diventata Casa Bruzzone a Chiavari, è una realtà molto bella, molto ricca, tante persone, gruppi, parrocchie, movimenti, davvero una realtà diocesana ed è un segno, credo, molto bello anche per le nostre città. Oggi più che un luogo di accoglienza notturna è un'esperienza, esperienza di condivisione e di fraternità che genera ascolto e a volte risate o a volte commozione. I volontari sono molti, gli operatori stringono con loro un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione. È un volontario che una volta alla settimana prepara la pasta per Casa Bruzzone. Siamo contenti di partecipare di questa cena insieme a tutta la comunità che aiuta questa gente che ha bisogno. Questa sera c'è la pasta alla matriciana, giusto? Con antipasto di fagioli, cipolle, gamberetti, mozzarella, caprese, poi c'è vari pezzi di focaccia al formaggio, focaccia normale, dolci e angurie. Per finire è una bella compagnia, comunque brave persone che abbiamo conosciuto in questo anno e gli anni scorsi. Ci siamo trovati bene e diciamo che praticamente è una bella serata. La carità non è singola, non la faccio io con il mio povero, ma è una cosa che parte da un percorso dell'intera comunità, che non è nemmeno ristretta alla comunità parrocchiale, ma diventa cittadina e diocesana. È un cammino insieme che arricchisce tutti.